Il pavimento della chiesa del 1536 crolla lo scorso 24 marzo. Di conseguenza attività e pazienti di tre reparti dell'ospedale incurabili vengono evacuate, così come 21 famiglie della vicina via della Consolazione, a due passi dall'ingresso di via Armani dell'intero complesso monumentale, dove all'interno si trovano anche il Museo delle Arti Sanitarie e la Farmacia Storica. E nel mentre si predispone il trasferimento di opere su pellettili nelle sedi dell'Università Vambitelli, Comune di Napoli e Regione Campania, giocano al rimpallo delle responsabilità. Ed ecco perché questa mattina il quotidiano di informazioni online, identità insorgenti e il Comitato di Portosalvo, da sempre impegnato nella salvaguardia del patrimonio architettonico della città, hanno invitato la cittadinanza a un presidio di protesta davanti all'ingresso, ora chiuso, del complesso officinale e medico Piazza. Antico d'Europa. Antonio Pariante, Presidente del Comitato e la direttrice della testata web Lucilla Parlato, temono si tratti dell'ennesimo scempio ai danni della ricchezza di Napoli. E' veramente una gravissima umiliazione che due amministrazioni importanti come la Regione e il Comune, invece di mettersi assieme e vedere che cosa si può fare in estremis, addirittura approfittino di questa situazione per insultarsi e litigare su quello che alla fine può essere la causa che ha determinato questa cosa. E' veramente umiliante. Non è possibile che nessuno si voglia assumere la responsabilità sulla situazione che sta ben nota, da 40 anni si sa com'è la situazione qui, si sa che lì la farmacia ha una cavità sotto, vuota, quindi chiaramente diventa strutturale anche per il troppo calpestivo, Bisognerebbe trovare delle soluzioni, bisognava trovarle. Quindi noi come cittadini chiediamo che un'entità superiore, cioè il MIBACT, cioè Boniso, intervenga immediatamente sulla vicenda degli incurabili. Non si può lasciare in mano né a Regione e Comune che scaricano le competenze l'un con l'altro, né tantomeno ai vertici di questa struttura che adesso piangono, però non volevano che noi stamattina scendessimo in piazza. Tra i partecipanti al presidio, anche le 21 famiglie di via Consolazione, evacuate dalle rispettive case a causa del crollo della pavimentazione della chiesa di Santa Maria del popolo degli incurabili. All'improvviso, da due ore sabato, 6 aprile, da due ore uno sfratto, non si sa nessuna carta né niente, non sappiamo se l'abitazione nostra sia vero o sono pericolanti, non lo sappiamo, sappiamo solo l'ospedale. Siamo disposti a fare tutto, dobbiamo ritornare nelle nostre case perché ci hanno state proprio con me, mi faccio dire le parole. Ma dove state voi? Ma siamo appoggiati in un albergo vicino alla Madonna dell'Arco.